Ultima possibilità, chi sei e cosa sai? Sono un agente, un man in black, ma vengo dal futuro. Siamo colleghi, fra 25 anni mi recluterai e 14 anni dopo il tizio che non mi hai lasciato uccidere oggi a Coney Island scapperà dalla prigione, tornerà nel passato e scatenerà un'invasione totale della terra. Abbiamo circa 19 ore per catturarlo e ucciderlo, quindi sul serio dobbiamo muoverci adesso. Grazie.